ci sono momenti nella vita in cui sei predo sei predatore quando lei arriva sei preda quando tu fuggi sei predato la ricordi la prima volta in cui sei scappato quando ti sei sentito schiacciato senza fiato come se stessi per affogare anche se in realtà stai scappando da qualcosa che fondamentalmente non esiste